Avevamo bisogno di dare delle risposte principalmente a noi stessi. Sappiamo che l'avversario che avevamo contro era importante, però credo che le risposte i ragazzi le abbiano date ed è il punto da cui dobbiamo ripartire in vista di domenica. I obiettivi della stagione ovviamente vanno di pari passo. Noi sapevamo, ripeto, che contro il Barletta è una squadra attrezzata per fare un altro campionato, però nei 180 minuti ho visto da parte dei ragazzi voglia di sacrificarsi, di combattere, di giocarsi la partita sia l'andata che il ritorno nel miglior modo possibile, quindi credo che ci sia stato equilibrio nonostante qualche occasione in più da parte loro, soprattutto nella gradiandata. Dalla panchina ci sembrava rigore, però l'arbitro ha visto così, un po' di protesta soprattutto perché mancavano pochi minuti e sarebbe cambiato il risultato, però l'arbitro ha visto così, alla fine il risultato è 1-0 e complimenti al Barletta per la qualificazione. Per noi domenica è fondamentale cominciare a fare punti, quindi bisogna ripartire dalla buona prestazione di oggi e cancellare quello che è successo domenica, come abbiamo già cominciato a fare oggi, dare ulteriori risposte, muovere la classifica, quindi da ora cominciamo a pensare a domenica.